Augusta, resistenza e violenza pubblico ufficiale, arrestata una donna di 63 anni. Agenti del commissariato di Augusta hanno eseguito un ordine di cancellazione messo dalla Corte d'Appello dell'Aquila nei confronti di una donna di 63 anni, residente da Augusta, responsabile del reato di resistenza e violenza pubblico ufficiale. L'arrestata, che è stata accompagnata nella casa circondariale di Piazza Lanza a Catania, deve scontare la pena definitiva di 4 mesi di reclusione.